Ciao, ti piacerebbe coltivare un bonsai proprio come questi? Oppure lo stai già facendo però senza ottenere risultati, quindi non ci capisci proprio niente? Io mi chiamo Claudio, da oltre 5 anni sono al punto di riferimento per quanto riguarda il bonsai in Italia e questo mese ho una stupenda notizia per te. Ho creato un videocorso della durata di 30 minuti dove spiego e soprattutto dove faccio vedere come si coltivano i bonsai e come si impostano. Tu ti chiederai quanto costa questo videocorso? 1000€? 2000€? La risposta è 0! Devi soltanto andare sul mio sito www.claudiobonsai.com e acquistare quello che vuoi. Puoi fare anche un acquisto di 2€. Non sai cosa acquistare? Vai tranquillo, mi iscrivi in privato, ti do consigli per quanto riguarda la tua situazione, faccio un'analisi del tuo bonsai, ti spiego come devi fare come devi far soprattutto per farlo ritornare in vita, prospero, come si deve. Ti faccio l'elenco delle cose che ti servono ad acquistare sul sito e 0 problemi, acquisti assolutamente quello che vuoi e hai in omaggio direttamente sulla tua mail il videocorso. Se ancora non mi conosci, io mi chiamo Claudio e da oltre 5 anni sono il punto di riferimento per quanto riguarda il bonsai in Italia. Sul sito ho all'attivo più di 7000 clienti e sono tutti a feedback positivo, come puoi vedere nelle mie recensioni, e 0 resi. Quindi se anche tu stai coltivando il bonsai oppure non ci capisci niente, vuoi migliorare, vuoi imparare a coltivare come professionisti, entra in claudiobonsai.com, se hai dubbi mi contatti, fai il tuo primo acquisto, fai il secondo acquisto, quello che è, fidati di me, ne vedrai delle belle e soprattutto nel videocorso ti spiegherò perfettamente come impostare e coltivare il tuo bonsai, ok? Clicca sul link.